Amici di CanaleCaccia.tv siamo all'interno dello stand di Diamant e siamo nell'area dedicata ad Aimpoint, siamo con Andrea e con Jonas che è stato alle nostre telecamere più volte. Parlare di Aimpoint è come un po' quando si dice ferodo e si pensa ai freni, è talmente tanto vicino l'accostamento e ormai anche da parte dei nostri amici cacciatori per quello che riguarda il Red Target, il Punto Rosso. Qui a Bastia avete presentato qualcosa di rivoluzionario che io avevo già visto presentato ad IWA di realtà virtuale per far provare i vostri prodotti ai cacciatori, è stato un successo o veramente incredibile? Siamo all'interno del sito di Aimpoint. Abbiamo presentato una nuova tecnologia per Aimpoint per allenarci. È un nuovo sistema, il nome è VR. VR è come una situazione realizzata in cui le persone vengono per allenarci. Quando parliamo del Red Dot Sight Aimpoint, è lo stesso che parliamo della tecnologia di ferodo. Quando parliamo di ferodo, è il ferrari, e al stesso tempo, in una situazione di hunting, è il ferrari del Red Dot. Poi puoi raccontare i dettagli di questo sistema? Come Andrea ha detto prima, Aimpoint è produzione il Red Dot Sight System. Questo è un'esperienza virtuale che abbiamo fatto per fare un scenario realistico di scena. Abbiamo 20 Wild Boas, abbiamo solo le grandi Kylos, le grandi Wild Boas, e ci sono permette di scegliere tutti. Abbiamo 20 animali e 50 ronde. Abbiamo normalmente detto che c'è un tempo prima di testarlo e c'è un tempo dopo aver testarlo, perché è un sistema molto bello. E' un sistema molto bello, hai l'impressione che il Wild Boas è venuto a te. E' vicino a un cinghiale di quasi 100 kg. E quindi la sensazione è realmente un'emozione che il cacciatore prova quando si trova realmente nel scenario di caccia. E anche l'ambiente è lo stesso che il cacciatore può trovare. Usa lo stesso modo come con il real Red Dot Sight System. Hai due ombre open e guarda il target. E questo sistema è molto, molto accurato. È 0,1 mm nell'accurità del sistema. E anche l'animazione del Wild Boas, la lunga, l'anatomia e tutto questo è molto esatto. Praticamente si utilizza lo stesso Aimpoint Dot Sight che il cacciatore usa quando va a caccia. E quindi anche la stessa distanza in cui mira è quella che troverebbe in una situazione di caccia. Quindi è come andare realmente a caccia. Adesso non ci resta che passare a presentare questo magnifico prodotto, però questa volta reale. Can you translate? Ok, and now is the time to present the new S1 Employment. This is the micro S1, all within the micro series. So it's the same features as all the micro series. We have 50.000 hours on one battery. It's very robust, it's very stable. Questo qui è il nuovo S1, fa sempre parte della serie micro. Quindi le caratteristiche sono le stesse che hanno le serie micro. 50.000 ore di batteria come durata della batteria significa che tu puoi lasciare acceso il Dot Sight Point per 5 anni e la batteria funziona ancora. È lo stesso sistema di costruzione resistente e estremamente forte, durevole. What we have changed here is actually the mounting, because we changed so the house and the mount are integrated into the house. That means we have gone from 20 mm optical axis to 14 mm. Here, you see the distance here is very low. It's been built, the house of the product is very low and the space is practically zero. So it substitutes the steering wheel that we have in the rifle. What we have made is that we have changed from, we have 2 MOA, 4 MOA, the dot size. And this one is optimized for shotgun, so it's 6 MOA, a little bit bigger dot to be able to shoot good on with shotgun. Ok, la differenza è anche nel punto rosso, che a differenza della serie micro H1 e micro H2, che può essere 2 o 4 MOA, in questo caso è leggermente più grande, è 6 MOA. 6 MOA significa che tu riesci ad avere una concezione di tiro nella caccia per l'animaliscia, in questo caso è veramente reale. We also have, under here, we have 8 different interchangeable base plates, that it's carbon fiber reinforced base plates. That means that we can mount the Aimpoint Micro S1 on any rib that is ventilated. Some people like it in the front, some people like it in the back, but it's up to you. It works, as long as you see the dot, you hit the target. Ok, integrate nella confezione in cui ti arriva questo nuovo Micro S1, ci sono naturalmente le sue basette specifiche, sono 8. Misurando l'altezza e la larghezza della bindella ventilata, tu trovi la giusta soluzione che ti viene poi indicata nelle istruzioni. Non è importante dove viene montato, può essere montato più avanti o più indietro, ma quello che è realmente questo nuovo sistema è che tu lo puoi montare su quasi, sull'80-90% delle bindelle ventilate che si trovano sul mercato. And I have to say that this is a system that you need to take it up, you need to test it, because it's a very good experience, especially on the ground game, it's fantastic. Quando tu spari, soprattutto contro i rabbit e i conigli, trovi una sensazione che è fantastica? Bene, avevamo già un'opinione incredibile di Aimpoint, dopo aver visto questo prodotto non può che essersi rafforzata. Tanta tecnologia così miniaturizzata impressiona il fatto di 5 anni di durata delle batterie, ma quello che penso ha appassionato di più tutti i cacciatori di tutto il mondo è il fatto che rende istintivo il gesto. Cioè è come se fosse l'occhio a percepire quelle sensazioni e non fosse in qualche modo veicolato da questa strumentazione incredibile per le sue caratteristiche e le sue capacità. Cioè il cacciatore sente quasi di non avere questo dispositivo perché è talmente istintivo il momento dell'imbraccio e della messa a fuoco praticamente dell'animale che lo rende così naturale. Penso che questa sia una delle grandissime chiavi di successo che fa sì che Aimpoint è il numero uno nel mondo in questo tipo di prodotti. Veramente congratulazioni e grazie Jonas, grazie anche da parte di tutti gli amici di Caccia Village che si sono divertiti da morire qui con questo nuovo sistema, che è un sistema quasi anche per allenarsi se uno ce l'avesse disponibile a casa. Penso che se fosse introdotto sul mercato avrebbe un successo tale e quale a quello che ha Aimpoint nel mondo venatorio della caccia e del tiro. Ormai Jonas è diventato un po' italiano quindi ha capito perfettamente le mie parole. Sei di una disponibilità incredibile, è sempre un piacere averti ai nostri microfoni. A Norimberga non ci ero riuscito, qui giocavamo in casa, ti ho bloccato. Siamo alla fine del secondo giorno di fiera, vi assicuro amici cacciatori, è stato un assalto alla diligenza. Lo stand di Diamant e i due angoli dedicati da Aimpoint agli amici cacciatori hanno fatto strike perché tutti avevano la curiosità, ma non tanto forse per vedere la realtà virtuale quanto veramente per provare i prodotti Aimpoint che stanno entrando sempre di più in modo forte nel cuore dei cacciatori italiani. Grazie